Oggi vi mostro la versione dei biscotti super croccanti però fatti con la farina di mandorle. Precedentemente avevo fatto un video con la farina di noci. Per prepararla avete bisogno di 150 g di farina di mandorle tritata grossolanamente, 50 g di eritritolo tenetene un po' a parte per la decorazione finale e due albumi del succo di limone e della buccia di limone grattugiato. Quindi unite l'eritritolo alla farina di mandorle. Poi montate a neve i due albumi. Unite il succo di limone e le scorze sempre alla farina e successivamente delicatamente anche gli albumi. Ora date la forma con un cucchiaio che vi viene più facile. Decorate con ancora un pochino di eritritolo in superficie. Io gli ho messo delle scorzette di limone e un pochettino di granola, di mandorle, di noci. Poi con la vostra teglia da forno in cui avete messo i vostri biscotti infornate a 180 per 15-20 minuti. Come vi ho già detto precedentemente tenete d'occhio la cottura. E ecco qua i nostri bellissimi e anche stra buoni e croccanti biscotti alle mandorle. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Come sempre vi invito a mettere like, a iscrivervi al gruppo e al canale youtube e io vi auguro sempre buon appetito!